Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita e fino al 2027 percepirà uno stipendio di circa 25 milioni di euro all'anno. Il tecnico Iesino ha deciso di dire addio alla Nazionale Azzurra, scatenando così una serie di polemiche. La bufera di opinioni ha investito anche la sua terra, le marche. In discussione c'è il ruolo di testimonial per la promozione del territorio e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, spinge per l'annullamento del contratto. Il primo cittadino pesarese inoltre ha proposto di cambiare l'attuale testimonial delle marche con Gianmarco Tamberi, altista italiano, nato a Civitanova Marche e fresco campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023. L'Italia non è un club, cioè non è come allenare un club passi a un altro club. L'Italia è orgoglio nazionale, senso d'appartenenza, quindi è stata una brutta storia. Credo che peggio di così non potesse uscire dall'avventura nazionale. Io mi sono posto il problema di come questa sua immagine incrinata a livello nazionale possa non essere più un valore aggiunto per l'immagine della regione ma addirittura un disvalore. Del resto la pubblicità della regione si fa nelle marche con Mancini, non so se si fa qualcosa in Europa, non si fa in Arabia Saudita, quindi rischiamo di spendere soldi pubblici per una pubblicità che ahimè per come si è comportato rischia di diventare negativa. Quindi mi sembra un ragionamento molto condiviso nella popolazione e molto diffuso e al tempo stesso ho pensato che Tamberi che già è testimonial per la regione Marche Social potesse diventare in questo momento il testimonial migliore come testimonial unico per le Marche. Quindi una proposta, vedo che la regione si è irrisidita, secondo me sbagliano e rischiano di fare dei danni all'immagine della regione. A difendere Roberto Mancini è l'onorevole Milko Carloni, il deputato leghista con un lungo post su Facebook ha dichiarato che la figura dell'ex CT Azzurro potrebbe migliorare ulteriormente i rapporti col Medio Oriente, opinione però non condivisa da Matteo Ricci. Io dubito e comunque sia per un arabo in più che magari portiamo, rischiamo di perdere migliaia di italiani. Ripeto, gli spot su Mancini la regione li paga le tv nazionali, le tv nazionali italiane le guardano gli italiani e non le guardano gli arrivi. Quindi se sono spot da fare in Arabia ha un senso, spot da fare in Italia oggi purtroppo no per come si è comportato. Siccome stiamo parlando di soldi pubblici e stiamo parlando di promozione in un momento importantissimo che è dal punto di vista turistico per il nostro territorio, penso che vadano spese al meglio. A mio parere per quello che è successo oggi non sono più spesi bene e quindi io invito a spenderli diversamente.